Ho preso questa malattia non come una cosa che non doveva esserci, ma per una cosa che era successa a me e mi doveva dare energia. Io ero così, sì, ok, sono così, ma posso fare altre 1700 cose, posso farle anche meglio di una persona normale. E così facendo poi nella mia vita ho incontrato anche l'amore. E lui invece sembrava uno uscito da un nuovo di Pasqua, perché era tutto attivo, tutto si muoveva con queste mani, infatti ho detto va, questo è da dove arriva. E quindi la primissima volta che l'ho visto è stato in questo locale, non abbiamo avuto modo di parlare, non abbiamo proprio interagito sostanzialmente in quel locale, perché appunto io ero con altri amici, si è formato il tavolone, ma non eravamo neanche vicini, nel senso io ho semplicemente visto arrivare questo ragazzo un po' strano e ho detto vabbè. Tutte le gambe funzionavano bene, no? Una quadra che era un po'... mi facevano male dopo un po' che correva. E cazzo, dopo che ho fatto questo intervento, sulla gamba sinistra, basta, ho perso il 90% del movimento. Questo ha sei anni. E ho passato il mio primo Natale in ospedale. Non ricordo ancora, è stato brutto. Sì, è un po' triste. Però la cosa bella è che appunto c'è un clown in ospedale e da lì infatti adesso faccio il clown ogni tanto, il clown del mago come professione, ai bambini anche un po' in difficoltà come ero io. Quando l'ho visto che ho detto oddio, cioè da dove arriva, però in realtà no, l'ho sempre visto molto il ruento, era sempre al centro dell'attenzione di tutti, eccetera. Però non ho percepito che avesse un problema finché non l'ha detto. Finché un giorno eravamo al pub con tante persone, perché noi eravamo un gruppo di ragazze, di insomma 5 o 6 ragazze, loro invece una bella compagnia grande, quindi eravamo un bel po' di persone, io e lui ovviamente tra una scorsa e un'altra eravamo seduti vicini, chiacchiera, che chiacchiera, lui dice, ah no ma io ho una malattia, e noi in che senso? Eh sì, no, no, una malattia, mi crescono le ossa. L'esostasi è brutta perché quando sei ragazzo hai mille complessi, poi già nell'età dell'adolescenza è già difficile di per sé la vita per un ragazzo, non è mai. Si pensa a uno con le ossa, che c'ha un pezzo di osso di qua che esce fuori, una cosa, una di qua, l'altra di là. Quindi in costume io non ci volevo andare, ma in piscina, al mare. Infortunatamente però nella mia vita ho inconciato persone buone, che mi hanno aiutato a crescere e a credere in me stesso. Però io non l'ho vissuta in modo pesante, anche perché lui, no, Puppetta, non ti preoccupare, tranquilla, non venire neanche in ospedale, tanto è una cosa così, è una cosa, vabbè, ho capito, io vengo, sai che c'è, io vengo a trovarti, poi, cioè se è una cosa così me ne torno a casa tranquilla, voglio dire, e anche a casa, anzi, io in realtà ho iniziato a entrare in casa dei suoi genitori proprio per quello. Niente, i primi sintomi, mio figlio, non è che si sentono dei sintomi in pratica, era l'asilo, è caduto dall'asilo, dallo scivolo dell'asilo e per due o tre giorni si lamentava che aveva dei dolori, che gli faceva male sempre la costa. Allora sono andata da pediatra e mi ha fatto fare delle radiografie e di lì abbiamo scoperto questo, che aveva tante osse in più nel suo scheletro. Da quello che mi racconta sua mamma, l'avevano dato per spacciato, come se dovesse morire dopo pochi mesi, perché gli hanno fatto fare due miliardi di radiografie una dietro l'altra, perché non riuscivano a capire come mai ci aveva tutte queste ossa, e quindi poi gli hanno detto che appunto avrebbe avuto dei problemi gravi, eccetera, e poi per fortuna il loro percorso poi è stato un altro, perché hanno incontrato il dottore che poi io ho anche conosciuto, con cui ho voluto parlare, quando poi effettivamente ho conosciuto la malattia, no, non parlare, ascoltare, cioè quando lui dove andava gli chiedevo di poter andare anch'io, se non era un problema, insomma, giusto per capire effettivamente cosa fosse e come potessi aiutarlo, insomma. Ma per me la diagnosi c'è stata subito, perché in pratica questa malattia ce l'ho anch'io e ce l'aveva mio padre, quindi appena ho visto i primi segni, i primi sintomi, l'ho riconosciuta subito, quindi non ho fatto fatica ad avere una diagnosi, perché è una cosa che ci tramandiamo. Il rapporto mio, quello che vivo come madre, è un rapporto, diciamo, io lo vivo molto male, perché so di aver trasmesso una malattia in pratica un po' invalidante a mio figlio. Il rapporto con il nostro figlio è stato un rapporto, diciamo, inizialmente difficile, ma non tanto nei confronti del figlio, quanto nei confronti delle soluzioni che in quel momento assolutamente non ci venivano prospettate in modo abbastanza, come potrei dire, futuribile, nel senso che allora la maggior parte dei medici interpellati dicevano di aspettare la fine della crescita e poi provvedere ad aggiustare quello che era possibile. Il fatto di volere un figlio è perché comunque ci sentiamo pronti, anche perché io ho 33 anni, ma tra qualche mese faccio anche 34, quindi anche a livello di età è anche giusto, però più che per l'età che non ci ho mai fatto caso, è proprio la voglia di avere un bambino. E ci siamo posti il problema, conoscevamo appunto il discorso del 50%, anche perché abbiamo fatto questi convegni, lo dicono sempre, che c'è questa possibilità di... E quindi abbiamo iniziato a pensare cosa vogliamo fare, questo bambino riusciamo a non averlo con la malattia, non tanto perché sia un problema e per evitargli sofferenza, insomma, perché se puoi, credo che da genitore la cosa più importante sia almeno di... anche perché poi non so come saremo e se riusciremo a fargli affrontare tutta la vita, però almeno togliergli ciò che conosciamo, la malattia è una cosa che conosciamo e che è possibile togliere, vorremmo... abbiamo deciso alla fine di cercare un percorso che ci permetta di non avere... di non farlo crescere, cioè di non farlo nascere malato. Poi Davide si cresce e comunque ci si innamora, ti è capitato anche a te? Fortunatamente sì, ho trovato una compagna sana, bellissima, Rossella, ti saluto, ciao Pupetta e fortunatamente abbiamo deciso di fare un percorso insieme, cioè vorremmo avere un bambino. Il problema sostanziale è il fatto che voglio avere un bambino sano e essendo la mia malattia ereditaria, cioè che ha il 50% di possibilità di passarla, non voglio assolutamente appunto che mio figlio ce l'abbia. Ed è giusto perché sa lui quello che ha sofferto, perché non è bello, perché i dolori delle ossa non sono piacevoli e ha paura e da un lato gli do pure ragione. La mia malattia si sviluppa nell'età adolescenziale, da bambino adolescenziale, nel senso che mentre cresco escono fuori queste ossa in più, che si chiamano appunto esostasi e ogni due per tre finivo in ospedale. Finendo in ospedale stavo mesi con la sedia a rotelle, vedevo gli altri bambini giocare a pallone. Diciamo che non è stato un bellissimo periodo. Se non cambia qualcosa all'atto delle conoscenze attuali sappiamo che c'è il 50% di rischio di trasmissibilità. E da lì parte un certo tipo di percorso, che è il percorso che sta facendo Davide, di avere la possibilità di un controllo su quello che può essere in futuro o la procreazione di un figlio. Davide ha cominciato a cercare insieme alla sua compagna una risposta e capire dove potesse accedere a questo percorso. E che cosa avete scoperto? Che nelle strutture pubbliche non si può accedere effettivamente, ma soltanto tramite strutture private. Il problema è stato proprio il percorso in sé che è diventato difficile nel momento in cui abbiamo capito che qui in Italia non era possibile accedere, che dovevamo nel caso valutare di andare all'estero, quindi un po' tutto ciò che ne comporta, la paura di non essere a casa tua, di andare in un posto magari dove parlare, la cosa più banale del mondo, se io gli devo dire che non sto bene, magari in un'altra lingua come glielo dico. E quindi insomma poi abbiamo comunque deciso di seguire perché poi nel nostro percorso anche qui secondo me è andato, cioè il destino è andato come doveva andare. Tramite l'associazione ACAR ci siamo informati, l'ACAR è una mia associazione sulla mia malattia, ci siamo informati che c'era un'altra associazione che si chiama Mamma Provetta. Mamma Provetta fortunatamente abbiamo trovato due ragazze che saluto, grazie veramente perché siete degli angeli, non siete ragazze normali, fantastiche, che ci hanno dato varie indicazioni e tra le varie indicazioni abbiamo scelto la Grecia, la Grecia nella struttura di Creta dove è un percorso abbastanza difficile, dato che io non so l'inglese e neanche la mia compagna, però abbiamo deciso di percorrere questo, soprattutto perché a livello di prezzo è neanche un quarto rispetto a quello che mi ha chiesto l'ospedale di Bologna, non l'ospedale, la clinica privata di Bologna. In Grecia abbiamo un centro privato, però lo studio degli embroni vista la mia malattia, che essendo una malattia abbastanza rara e complicata, tutte le sfighe le ho avute io diciamo, lo fanno tramite un centro ad Atene, questo centro però la cosa bella è che è pubblico e quindi non capisco perché ad Atene è pubblico e qua in Italia invece è privato, vabbè lasciamo stare tutto questo percorso. Il discorso è che è una vergogna che una copia formata da disabili, adesso sono soltanto io disabile, però una copia di disabili con un portatore di handicap deve informarsi a livello privato, cioè senza che il pubblico, lo Stato ti dia una mano, ti dice dove andare, cosa fare, cosa non fare e poi soprattutto deve fare un percorso che ti porta fuori da questo paese. E aggiungiamo anche a questo un'altra informazione, secondo un decreto proprio del nostro governo noi siamo entrati come Italia, paese dell'Unione Europea, nella Schengen sanitaria, cioè ognuno ogni cittadino italiano, in realtà un cittadino europeo può andare a cercare anche le risposte al proprio problema di salute in tutti i paesi europei e in teoria poi dovrebbe essere rimborsabile nel nostro paese, cioè dovrebbero esserci addirittura dei riconoscimenti di assistenza anche da un punto di vista economico. Ci vorrà ancora un anno per capire come, per capire anche l'entità delle prestazioni e formulare una sorta di ticket europei per queste prestazioni sanitarie. Ma come avete visto non tutti i problemi sono definiti problemi di salute per il nostro paese, tra questi quello della infertilità, sterilità o anche delle malattie genetiche che a questo punto della storia potrebbero addirittura essere prevenute e che invece pare che siamo un po' lontani da questo. Nessuno di noi pretende di avere un figlio bello, intelligente, eccetera. Volevamo solo che non avesse la malattia né più né meno, poi come veniva, veniva, nel senso assolutamente non volevamo pirotare nessun diagnosi e solo non permettere che nasca con la stessa malattia, tutto qui. Purtroppo qui non si può fare. Poi per fortuna vari eventi ci hanno portato a conoscere Madre Provette e da lì ci hanno spiegato che potevamo avere un'altra alternativa. Innanzitutto parto dall'inizio, nel senso che l'Akara è un'associazione comunque abbastanza giovane, nel senso che è nata appunto con internet, quindi quando io ero piccolo l'Akara non esisteva. E diciamo che io sono uno dei soci con la patologia più anziani, tra virgolette anziani si fa per dire, nel senso che sono, ho 30 anni però, la maggior parte delle persone che sono associate all'Akara sono mamme di bambini e queste mamme mi hanno fermato e mi hanno detto Davide tu vai avanti, facci da apri pista, poi noi ti chiediamo come fare, quindi cioè nel senso questa è la cosa carina. Però quello che continuo a capire, a non capire e a chiedermi perché noi dobbiamo andare all'estero e accedere con dei costi relativamente normali, relativamente si fa per dire, mentre qua in Italia sono esorbitanti, allucinanti, chi ci sta mangiando sopra? Immagino padre, spero di immaginarmi padre perché comunque il percorso che abbiamo intrapreso io e Rossella è un percorso abbastanza lungo, siamo solo all'inizio perché adesso sì, siamo andati in Grecia, adesso molto probabilmente ringraziando Dio iniziamo con l'ipestimolazione, iniziamo a fare questo percorso, però non è detto che l'embrione attacchi, quindi non è detto che vada tutto bene, io sono un positivo per natura, spero che vada tutto bene, tra dieci anni, tra dieci anni mi aspetto più maturo con le mie conquiste e mi aspetto un'Italia migliore. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti.